Grazie a tutti. La qualità del gioco e i numeri che hanno sono pari a quelle che sono arrivate un po' davanti loro, come noi. Sicuramente l'aggressività di questa squadra è una aggressività importante. Hanno cominciato a fare punti in casa e penso che nel giorno di ritorno Ravenna sia diventata una squadra temibile per tutti. Guardando nella metà campo giallo-blu, che squadra vorresti vedere sia da un punto di vista tecnico che di approccio? È una settimana importante perché adesso, come avevamo detto prima in sede di vigilia di presentazione di Cuneo, avevamo detto di una finale. Adesso dobbiamo riprendere invece con lo stile provinciale che ci ha concesso anche di arrivare tante volte al Tebreg, pur perdendoli, però di stare molto in campo in quasi tutte le partite a parte due. E questo è un qualcosa che avevamo e adesso con questo periodo di sosta, questa finale che abbiamo giocato con Cuneo, dobbiamo rimetterci dentro a pensarci bene a questo atteggiamento qua, perché è un atteggiamento che credo che per queste tipologie di squadre sono importanti.